che dici ha fatto un'azione forte e porterà un messaggio che nel tempo non verrà capito quel cazzo adesso come adesso questi attivisti qua che stanno facendo sta cosa qua hanno cambiato qualcosa stanno cambiando qualcosa con questi atti esterni stanno cambiando aspettiamo io ti dico va bene fra dieci anni probabilmente la gente capirà saranno i Marco Pannella di turno la gente capirà che in realtà siamo degli stupidi siamo dei coglioni che in realtà imprattare le robe serve a qualcosa serve a portare dei messaggi allora automaticamente la nostra città diventerà tipo Peppa Pig tutta colorata che cazzo ne so perché la gente protesterà per qualsiasi roba va bene siamo noi che non capiamo i visionari ma questo lo dovremo vedere Fran adesso ti dico come adesso questo non serve cioè non sta portando a un beneficio alla causa io ti dico adesso come adesso quello che faccio io è bere e sputarci sopra